Una pecora, pecora, ciao pecora, come stai pecora? È morto. Bella ragazzi sono Manzo e benvenuti al secondo episodio della Ultra Hardcore. Siamo con, un attimo che non mi ricordo, Slipax HD. Iscrivetevi al suo canale che fa molto Battlefield. E niente, abbiamo trovato il buco che cercavamo. Sì, e ci stavo cadendo dentro. Eh, infatti, anch'io adesso. E ho visto il ferro. Io scendo. Proprio così, senza curarmi di niente. Ah, mentre avevamo stoppato, sono morti i blu. Cioè, uno ha killato l'altro e poi è stato ucciso da un Enderman. Ci possiamo fare una spada. Carbone. Possiamo dare fuoco alla gente. Attento che sono io. Ma se io kill, se io ti provo a killare, muori. No. Eh sì, mi fai danno. Aspetta che provo. No, col cazzo. Ah, sto scherzando, dai. Dai, dobbiamo vincere. Eh, no, vabbè, vieni giù. Sento un po' di acqua. Quindi probabilmente ci sarà. Boh, non lo so. Non ci sarà niente, però. O vabbè, di dire cazzate. C'è un gatto. Oh mio Dio. Un gatto. Ah, ma no, no, pensavo in Minecraft. No, no. Aspetta che... Arrivo subito? Sì, sì. Ti copro io. E se lo killassimo. Oh dai, se è un buone. Fatto. Rubiamo il ferro. Ok. Ah, rubiamo il ferro? Ah, ah. Ah. Come fai? Come fai a saperlo? Non hai le cuffie. Ah, ne vedo cinque. Te lo ridò, tranquillo. Per fortuna che è un gioco di squadra. Ero stato pervaso dal desiderio di killarti, però poi ho detto, no dai, siamo bravi. Eh sì, adesso. Pure di amare. Adesso mi sono rotto le palle. Adesso comincio a scavare. Vai, vai, vai. Comincio a scavare in giù, Dio Cristo. A te, non scavarti sotto i piedi, eh. No, no, ma che, figurati. Mi allontano un po' da te, alla ricerca dell'oro. Va bene. Quanto, quanto ne serve? Eh, beh drocca, Ale. Quanto ne serve per fare una mela? No, otto. Merda, otto, otto lingotti. Eh sì, dove cazzo è XY? Dov'è l'altezza? Non mi ricordo più. Aspetta che c'è il gatto che rompe ancora. Ok, niente. Resta fuori. C'è tipo, c'ha un cerbiato in bocca. Non sto scherzando, c'è veramente una roba pettirosso, non lo so. Oro! Olè! Veramente? Te! Due! Tre! Quattro! Oilà! Ai ai ai, niente mela! Cinque! Diamanti! Veramente? Ah sì, te! Madonna che culo! Dovevo restare lì! Olè! Cosa scrivi, Olè? X-Ray! Nooo! Adesso, adesso, apro X-Ray, X-Ray, X-Ray. Cazzo, mi è crashato. Scri, 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 eh? Il... La mucca è... La mucca è... È crashata. È crashata. Che battuta. È crashata. Di Icari, ritorno subito. Torna... Subito. Ho trovato una... Una? Oddio, un creeper ho trovato! Crystal... Scappa! Esplodi! Esplodi! È morto. Ho trovato un sacco di ferro... E mi sa che... Ah, no, è... Creeper... Avalanghe! Esplodi? Esplodi! È però... Sono fottuto. Perché? Perché ho trovato l'oro, però non ho le mele. Appunto. Per quello ti ho chiesto se eri in superficie, così iniziavi a prendere le mele. Ma... Eh, sì, bisogna prenderle. Non ce l'ho pensato. Non ce l'ho minimamente pensato. Io sto trovando un sacco di oro e di ferro, adesso. Sono assai cosi di ferro, di oro. Eh, sì? Buon per te. Non c'è più posto. Guarda Mystic! Eccolo con tutti i cori! Citto! Eh, anche secondo me... Ciao, zumbo! Chi è? Eh, porca puttana, adesso... No, 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 no! Fanculo! Oro! Oro! Fanculo ha tutto! Sono fuori! Ciao! Ok, episodio è finito. E dopo questa... E dopo questa... Oro! 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 Oro!